... Potresti sederti da un'altra parte, per favore? Perché? Perché da quando non ti frequento più il mio tenore di vita è migliorato, ma molto, 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 molto. Sei ancora arrabbiato con me? Sì. Ma non è stata colpa mia, Sandro, scusa. I veri amici dovrebbero riconoscere quanto uno è in buona fede, no? I veri amici? Ma quello che mai c'è stato il motoscafo che tu mi hai scassato ha voluto una barca di soldi, altro che veri amici. Comunque lo invidio. Chi? Pablo, il defunto. Pablo. Se l'ha dato nel momento più bello, a cavallo della moto che amava di più.